Dedicato a te, ieri 20 febbraio 2024 su Canale 5 è andata in onda questa serata speciale dedicata interamente a Maurizio Costanzo, pensate che è stato mostrato un collegamento con Francesco Totti che per l'occasione ha voluto raccontare una simpatica nonché divertente barzelletta che inizia con una frase rapitaria, un uomo ha un dubbio sulla fedeltà della moglie e la fa pechinare diciamo che più hanno etichettato questa barzelletta come una sorta di attacco di frecciatina a Ilari Blasi e infatti la maggior parte delle persone l'hanno ripubblicata e hanno detto questo è un attacco vero e proprio una frecciatina a Ilari Blasi, va bene? Sta di fatto che è stata una bellissima serata quella di ieri dove c'erano tanti personaggi di spicco del mondo della tv italiana che hanno ricordato il grande Maurizio Costanzo, marito di Maria De Filippi, c'era presente ovviamente la bella Maria De Filippi come ovviamente anche il padron di Mediaset, ossia per Silvio Berlusconi, figlio di Silvio Berlusconi e c'era anche però Fabio Fazio, pensate che Fabio Fazio sembra che sia corteggiato da Mediaset che forse lo vorrebbe nella sua azienda, nella sua SPA bene, comunque è stata una puntata meravigliosa quella di ieri, vi invito a vedela sul web e la troverete ciao a tutti, una buona giornata, Leandro, narratore italiano